E con il nuovo rialzo deciso ieri, la Banca Centrale Europea ha portato i tassi al massimo storico del 4,5%. Vediamo allora con Chiara Romanello gli effetti su prestiti e mutui. Il primo effetto evidente è quello sui mutui. Con l'ulteriore aumento del costo del denaro dovrebbe crescere l'importo delle rate dei prestiti a tasso variabile, mentre nulla cambia per chi ha un mutuo a tasso fisso. L'impatto non sarà indifferente per circa 3 milioni e mezzo di famiglie italiane attualmente impegnate nell'acquisto della prima casa. Sui nuovi mutui a tasso fisso, ad esempio, calcola Fabi, sindacato dei bancari, l'interesse medio è passato dall'1,8% di fine 2021 al 6% di agosto, raddoppiando quindi il valore del saldo mensile. Quelli nuovi a tasso variabile, dice Fabi, potrebbero arrivare a breve, verso il 7%. L'impatto si vedrà anche sui finanziamenti. Secondo Fabi, per comprare un'auto a rate su base decennale, ad esempio, si spenderanno fino a 10.000 euro in più. L'aumento del costo del denaro ha effetti anche sui prestiti alle imprese da parte degli istituti di credito, che diventano meno accessibili. Banca d'Italia già a luglio ha registrato un calo del 4% dei finanziamenti concessi alle aziende. E poi c'è l'impatto sui conti dello Stato, perché aumenterà la spesa sugli interessi del nostro debito pubblico. scattato negli Stati Uniti